La bella favola tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United, che lo consacrò nell'Olimpo del Calcio a inizio carriera, sembra non avrà un lieto fine. In un'intervista a Shock al Sun, il fenomeno portoghese non le ha mandate certo a dire. Lo United mi ha tradito, mi ha reso una pecora nera, non rispetto Mr. Tenag, perché lui non ha mai mostrato rispetto per me, ha dichiarato CR7. L'attaccante, 37enne sotto contratto con il Red Devils fino al 30 giugno, ha sottolineato come dopo la partenza di Sir Alex Ferguson il club inglese abbia smesso di evolversi. Ronaldo, che vorrebbe lasciare Manchester già a gennaio, prova ora a concentrarsi sul mondiale in Qatar con il suo Portogallo.